Dopo sette anni di attesa e due di messa in sicurezza dell'infrastruttura danneggiata dal sisma dell'agosto del 2016, oggi è stato riaperto il ponte San Rocco a Castiglione a Casauria. Fino ad oggi era rimasto transennato e inaccessibile al transito veicolare. I lavori antisismici di riqualificazione e messa in sicurezza avviati nell'ottobre di due anni fa dall'amministrazione provinciale di Pescara sono stati completati e la giornata odierna rappresenta una festa per la comunità di Castiglione a Casauria e per i comuni limitrofi, visto il ruolo fondamentale del viadotto quale collegamento viario che consentirà di rilanciare le economie dopo anni difficili causati anche dalla pandemia. A tagliare il nastro con il sindaco Biagio Petrilli c'erano il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il presidente della provincia Ottavio De Martinis, il deputato di Fratelli d'Italia Guerino Testa, gli ex presidenti dell'amministrazione provinciale Antonio Di Marco e Antonio Zaffiri, sindaci e amministratori di Pesco Sanzonesco, Corvara, Torre dei Passeri, Tocco da Casauria, Pietranico, Cugnoli e all'anno consiglieri provinciali e regionali. I lavori di rifacimento del viadotto lungo 93 metri del costo di 1.600.000 euro hanno consentito di rinforzare i pilastri, evitando di costruire un ponte nuovo che avrebbe richiesto un finanziamento maggiore e tempi molto più lunghi. Grazie a questo intervento sarà più accessibile anche il santuario di Sannunzio sul Prizio, a Pesco Sanzonesco, che ogni anno richiama migliaia di fedeli. Con le immagini di Diego Martelli ascoltiamo il presidente della provincia De Martinis, il sindaco Petrilli e il governatore Marsiglio. Negli anni si è lavorato, hanno lavorato i miei predecessori, sia Di Marco che Zaffiri. Io ho impresso come giusto che sia un'accelerata e oggi siamo ben lieti di aver regalato al territorio la riapertura di questo ponte che, come dicevo, è assolutamente strategico. Abbiamo sofferto parecchio, soprattutto le attività commerciali, che chiaramente i clienti che si ritrovavano a dover attraversare il vecchio centro storico col semaforo, con le difficoltà dei passaggi, preferivano magari rimanere più in basso. E poi chiaramente non potendo utilizzare queste aree per far passare i mezzi pesanti, gli autobus per il turismo religioso è chiaramente caduto. Questo è un giorno che dovrebbe ripartire il tutto e fare da volano per la ripresa veramente di questa zona, perché chiaramente più strade ci sono e meglio è. Voglio rivendicare qui con l'occasione che questo ponte è stato uno dei primi argomenti che abbiamo dovuto affrontare insieme a quello della manutenzione delle strade provinciali. C'erano fondi incagliati perché la precedente amministrazione regionale concedeva solo il 5% di anticipo alle imprese una volta determinato l'appalto ed era un anticipo troppo esiguo per permettere di avere la capacità economica di poter aprire i cantieri e di cominciare a fare gli investimenti. I presidenti di tutte e quattro le province dell'epoca mi chiesero pochi giorni dopo il mio insediamento, quando ancora non era stata neanche nominata la Giunta, di intervenire su questo aspetto. Io utilizzando i poteri dell'intera Giunta, che ancora non era appunto costituita, ho modificato questa convenzione concedendo un maggiore anticipo sull'importo dei lavori, cosa che ha consentito alla provincia di poter sbloccare il cantiere, procedere alle gare e quindi attivare tutta la procedura che oggi ci porta a inaugurare questo ponte molto importante per tutta l'alta Pescara.